Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale alla Fideworkup, siamo arrivati al quarto turno e in gioco ci sono ancora 32 giocatori. Finalmente oltretutto ci occupiamo di Karzen impegnato nel match contro il forte polacco Wojtacek. I due giocheranno una prima partita da fantascienza con idee quasi incalcolabili e quindi noi partiamo subito. Wojtacek con il bianco apre la partita con D4, Magnus Karzen risponde con cavallo in F6, C4, E6, G3, siamo entrati subito nella catalana. Spinta al centro in D5, alfiere in fianchetto in G2, alfiere in E7 e il cavallo in F3. Arrocco corto per il nero, arrocco corto per il bianco, fermiamoci un attimo perché noi ormai sappiamo che una delle idee principali, probabilmente la principale del nero è il cambio in C4, visto che l'alfiere ha cambiato diagonale quindi non si può riprendere con l'alfiere. Un'altra idea è sicuramente chiudere il triangolo con E6, pare un po' più passiva però. E la terza idea è quella dello sviluppo del dato di donna iniziando con il salto del cavallo in D7. Cosa farà Karzen? Karzen invece non giocherà queste continuazioni principali, giocherà una mossa molto poco giocata, ma però interessantissima. Giocherà A5. A5 lascia l'attenzione al centro, prende grande spazio sul dato di donna, arriva donna in C2. Donna in C2, la donna che oltretutto va in una casa tipica di questo tipo di strutture, protegge il pedone in C4, ma inizia a controllare anche questa casa centrale in E4, perché poi il bianco vorrà spingere anche in E4, arriva C6. Sviluppo del lato di donna, sviluppando il cavallo veramente, adesso il bianco può fare questa spinta, arriva B6, perché l'alfiere si vuole muovere in fianchetto. Giustamente tutta la struttura centrale su case bianche, questo alfiere deve andare a trovare un'altra via di uscita. Arriva finalmente la spinta al centro E4, ora attenzione, perché il nero non deve cambiare in E4, perché lascerebbe il bianco in una posizione molto forte. Naturalmente Karzen non lo farà, andiamo un po' a vedere che succede dopo D per E4. Il cavallo ricattura, guardate quante frecce, queste frecce sono la mobilità dei pezzi del bianco. Torre in D1, il cavallo si sposta, oltretutto su un avamposto dal quale in questo momento non è scacciabile, si apre la grande diagonale per l'alfiere, quindi troppa attività per i pezzi del bianco, che oltretutto ha anche un maggior controllo sul centro. Quindi ritorniamo a noi, dopo E4 cosa fa Karzen? L'alfiere in B7 sviluppa, rinforza tutta questa struttura centrale. Torre in D1, al centro, quindi centralizzata la torre sulla stessa colonna della donna, Karzen inizia a pensare, dopo 13 minuti gioca l'interessantissima cavallo in A6. Bella idea? Il computer teme questo salto di cavallo in B4, Stockfish giocherebbe A3, proprio per togliere questa casa avanzata al cavallo, e invece Wojciech gioca un'altra idea sempre buona. Quindi, cosa fa il bianco? Gioca A5. A5 prende spazio al centro, attacca il cavallo che dovrà retrocedere, ma soprattutto chiude il centro, chiude il centro in una posizione dove, vedete, il bianco ha sicuramente non solo un ritardo di sviluppo, ma anche qualche problema di sviluppo. Chiudendo il centro, questo ritardo diventa molto meno grave. Quindi, cavallo sotto attacco, si porta in D7. C per D5, adesso quella bella intermedia che si diceva prima. Salto del cavallo in B4, attacca la donna, la donna costretta a retrocedere. Ora, fermiamoci un attimo, perché come si riprende? Sembrerebbe, quasi logico, riprendere con il cavallo, quindi centralizzarlo, e invece, sempre pensando, perché questa è una partita in cui stanno usando, iniziano ad usare molto tempo, Karsen riprende con il pedone C. Cosa succede? Succede che la partita rimane bloccata. Anche la cattura col cavallo sarebbe stata buona. Quindi, cosa temeva Karsen? La partita con questa ricattura di Karsen rimane bloccata, ma più che altro si acuisce la difficoltà del bianco di sviluppare i suoi pezzi. Ritorniamo indietro di una mossa. Se Karsen avesse ricatturato col cavallo senza più il controllo del pedone sulla casa E4, Guardate con quale facilità si liberava la posizione di Wojtacek. Donna in E4, subito dopo, Donna in G4, anche, attenzione, con una certa pericolosità sul lato di Re, questa casa E4, dopo che la Donna si sposta, diventa la casa del salto del cavallo, si apre anche la diagonale dell'alfiere e il bianco ha risolto tutti i suoi problemi di sviluppo. Ritorniamo indietro. Quindi, bella idea di Karsen, questa ricattura di pedone. Eh, ma come dicevo, queste sono mosse nelle quali c'è da pensare. Ora, vedete che il cavallo, sì, può statare in B3, ma da B3 non ha più grandi case offensive, quindi giustamente il bianco lo manovra in F1 per ricentralizzarlo in E3. Alfiere in A6, quindi Karsen trova finalmente la diagonale giusta per questo alfiere Campochiaro, il cavallo si porta in E3. Torre in C8 sulla colonna semiaperta, A3 a scacciare il cavallo. Cavallo indietro in C6, arriva B3, perché anche il bianco vuole portare questo alfiere in fianchetto, diciamo. B5 continua l'idea di Karsen di prendere spazio sul dato di donna, ma pensate che per fare questa mossa Karsen ci ha pensato per 17 minuti, e invece l'idea di Wojtacek è prendere spazio sul dato di re. H4 potrebbe anche supportare, se riesce a divincolarsi un attacco sul dato di re, arriva B4. Allora, attenzione, perché se il bianco cambia, rimetterebbe in gioco il cavallo su una casa diventata fortissima. Diventata fortissima perché il cavallo da B4 non potrebbe essere scacciato da nessun pedone, e quindi Wojtacek è quasi costretto a giocare A4. Ma allora, sul lato di donna, il vantaggio di spazio l'ha preso Karsen. Attenzione perché questo pedone è un'ancora fortissima sulla casa C3, e adesso in questa posizione Karsen gioca un'idea posizionale molto molto forte. Alfieri in E2, attacca la torre, ma il bersaglio di questo alfiere è questo cavallo in F3. La torre non si può spostare dove preferirebbe su E1 perché sta controllando il pedone. Quindi, torre in D2, ma adesso il cambio dell'alfiere cattivo sul cavallo. Quale cavallo? Un cavallo che sta proteggendo il centro. Quindi, alfiere sul cavallo. Non c'è più la protezione del cavallo sul centro. L'alfiere ricattura. Fermiamoci un attimo per fare due considerazioni su questa posizione. Guardate questa struttura pedonale, mi viene da ridere perché per quello gliela insegnarono ad Anish Giri quando era ragazzino in Russia, la struttura della francese. Questa è proprio la struttura della francese. Questa è una struttura che esce fuori anche nelle partite di donna. È una struttura quindi importantissima da conoscere e da analizzare. Allora, questa è una francese dove il francesista è riuscito a cambiare il suo alfiere cattivo sul cavallo che difendeva il centro. C'ha pure il vantaggio di spazio sul lato di donna. Il bianco non solo non è riuscito a portare l'alfiere Campochiaro sulla casa dei tre, quindi sulla diagonale più attiva di attacco, ma addirittura l'aveva posto in fianchetto. C'è pure una grande disorganizzazione nello sviluppo dei pezzi del bianco. Quindi Karsen, il nero, deve per forza avere un vantaggio in questa posizione. Cosa fa adesso Karsen? Fa la spinta di rottura tipica di questa struttura che è F6. Ora, vedete, doppio attacco sulla casa E5, protetta solo una volta. Sembra una mossa che forza il bianco a catturare lui. E invece Wojtacek gioca l'unica mossa che lo tiene in partita. Perché gioca al fiera in G4, attacca la debolezza lasciata dalla spinta F6, che è proprio il pedone E6. Una cattura che arriverebbe con scacco. Ritorniamo indietro. Vediamo che succedeva se il bianco andava a catturare. Dopo E per F6 c'è sempre questa ricattura di alfiere, che è sempre ottima anche in questa posizione. E oltretutto rimane la mossa migliore, ma c'era anche un tatticismo interessante. Che è cavallo per D4, attenzione perché la prossima cattura arriva sull'alfiere sospeso, ma più che altro arriva con scacco. Quindi bisogna eliminare il cavallo. Ora, la ricattura di alfiere, guardate un po', è un'infilata. Che naturalmente si prende la qualità. Ritorniamo indietro. Invece, dopo alfiere in G4, cosa fa Karsen? Lui chiude giustamente questa diagonale. Se l'alfiere che è sotto attacco si sposta, andiamo a vedere che succede. Dopo alfiere in H3 arriva il sacrificio dell'alfiere in H4. Per questo motivo Wojtacek non l'ha spostato indietro. Questo alfiere non si può accettare perché dopo G per H4 arriva la donna. Alfiere di nuovo sotto attacco. Alfiere in G2 arriva supportata dalla torre. Quella spinta F4 fortissima che dà al nero quasi meno 5. Quindi partita vinta per il nero. Quindi dopo che si è perso il cavallo bisognerebbe portare di nuovo in gioco la donna. Che è questo il problema del bianco. La donna gli è rimasta, se rimane passivo, fuori dai giochi. Ma l'alfiere ritorna indietro in G5 con sicuro almeno un piccolo vantaggio per il nero. Ritorniamo a noi. Quindi dopo F5 il polacco però Wojtacek non ci sta a difendersi passivamente. Sacrifica il cavallo per due pedoni. Quasi tre. Cavallo cattura in F5. Il pedone ricattura. L'alfiere ricattura. Si è formata la batteria donna alfiere. Attenzione perché qui si minaccia pure la cattura. In H7 con scacco. Quindi che succede? Se Karzen volesse soltanto pattare gli basterebbe giocare G6. Non giocata da Karzen. Che invece si dimostrerà super aggressivo. Perché in questa posizione basta un ulteriore sacrificio. Alfiere per G6. Pedone ricattura. Dopo la cattura di donna c'è lo scacco per peto. Quindi patta per scacco per peto. Ritorniamo invece alla nostra partita. Perché cosa fa Karzen? Karzen sacrifica l'alfiere sul pedone. Alfiere cattura in H4. La posizione continua a complicarsi. Ed il tempo sugli orologi continua a diminuire. Karzen con solo i 15 minuti. E qui siamo alla mossa 24. Wojtacek con 37. Ma prima di accettare questo alfiere. Prima di non giocare alfiere cattura in H7 con scacco. Pareggia il tempo con Karzen. Perché ci pensa per 28 minuti. E anche lui rimarrà con 15 minuti per giocare dopo 15 mosse. Ed arrivare alla quarantesima. Cosa può fare il bianco in questa posizione? Una delle migliori idee è quella di giocare. Alfiere cattura in H7 con scacco. Il re naturalmente si porta in H8. Dopo far rientrare la donna in posizione offensiva. Ma anche difensiva. Donna in G6. Un'altra idea è quella giocata dal polacco. Quella di accettare l'alfiere. G per H4. 15 mosse per arrivare alla quarantesima. Poco tempo. Tante trappole da evitare. Perché Karzen cattura in H4. È la seconda mossa migliore per il computer. Attenzione qui si minaccia anche di far crollare il centro. Ritorniamo indietro di una mossa. Perché il computer in modalità TAL. Trova al posto di questa cattura. Che è buonissima. Una serie di sacrifici spettacolari. Ritorniamo indietro. In questa posizione il computer TAL giocherebbe. Anzi il computer Stockfish 13 giocherebbe. Cavallo cattura in E5. E tra i due è meglio questo. Attenzione perché il prossimo salto è scacco e forchetta. Quindi il cavallo bisogna accettarlo. Ma arriva il fratello. Cavallo ricattura in E5. Se per caso si accetta la torre. Guardate che succede. Se alfiere per torre in C8. Cavallo in F3 con scacco. Re in F1. Arriva la donna. Arriva la donna e che succede? Arriva la donna. Qui c'è il matto sulla prima traversa. Quindi. Cosa bisogna fare? Qui. Alfiere in E6 con scacco. Quindi. Si rimette in gioco questo alfiere. Per adesso si chiude anche la colonna. Il re si sposta in H8. Ma ora attenzione. A non giocare la mossa sbagliata. Perché anche con donna in D3 si prende matto. C'è donna in H1 con scacco. Re in E2. Donna in E1 scacco matto. Quindi. Dopo questa idea. Bisogna tentare di far scappare il re. Ma non si scappa neanche con re in E2. Perché arriva cavallo per torre. L'alfiere ricattura. E qui c'è F2 due volte sotto attacco. Ma addirittura. Poi sono incalcolabili. Secondo me queste posizioni. Perché. Si dice che il matto si dà con tre pezzi. E qui addirittura. Guardate che svantaggio di materiale. E invece guardate che succede. Torre cattura in F2 con scacco. Re in D1. Donna in H1 con scacco. Re in C2. Donna in E4 con scacco. Guardate qui. Questo pedone non lo fa uscire. Qui se si stacca dal re. Arriva la cattura di torre. E scusate. Se il re si stacca dall'alfiere. Arriva la cattura di torre. Re in C1. Torre in F1 con scacco. Dietro c'è la donna. Il re si sposta. Donna per donna. No davvero. Perché la donna dà scacco. Il re è così detto a spostarsi. Il bianco perde la donna. Sembra ancora avanti di materiale. Ma arriva l'ultimo scacco con forchetta. E il nero vince la partita. Quindi. Veramente pazzesco. Ritoriamo a noi. Invece in questa posizione. Karsen che. Seppur fortissimo. Non è il computer. E tutt'è tutto. A pure poco tempo. Gioca la buonissima. Donna cattura in H4. Si minaccia il re. Si minaccia di far cadere il centro. Vojta c'è da prima lo scacco. Al fiera in il secondo scacco. Il re si sposta. Costretto dopo. A rimettere in gioco la donna. Per salvare questa casa di 4. Quindi attiva la donna e protegge. Entrambi i giocatori con 14 minuti. Dopo 5 minuti di calcoli. Arriva un altro sacrificio di Karsen. Il cavallo cattura il pedone. Attaccando la donna. Quindi. Vojta c'è il caccetto del cavallo. Ma arriva il secondo cavallo di nuovo con tempo. La donna cattura il pedone centrale. Arriva il famoso scacco di cavallo. Cavallo in F3 con scacco. Qui siamo al momento critico della partita. Ora. Scusate. Apro una parentesi. Quando Karsen. Ha fatto. Il sacrificio. Il computer aveva avuto un'altra idea fantastica. Stavolta. Difensiva. Per non appesantire il video. Ve la lascio nella descrizione. Della partita. Sotto al video. Quindi ve lo potete scaricare. Andiamo avanti. Qui siamo al momento critico. Perché Vojta c'è che deve fare. La scelta giusta. E non solo Vojta c'è. Pure voi. Perché siamo arrivati al nostro quizzone. Quindi. Cosa giochereste voi. Al posto del bianco. Dopo questo scacco. Mettete pure in pausa. Se volete. E da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Allora. Il re. Se si sposta il re. Si perde la partita. Andiamo un po' a vedere. Re in F1. Perché poi il re. Ha solo due mosse possibili. Re in F1. Donna in H1 con scacco. Re in E2. Donna in E1 con scacco. Il re scappa. Re in D3. E no. Arriva torre in C3. Scacco matto. Vedete. La potenza. Di questo pedone. Che va. A creare. Un avamposto fortissimo. Nel campo avversario. Ritorniamo. Allo scacco. Perché. Re in G2. Prende. Un matto simile. Donna in H2. Naturalmente protetta dal cavallo. Con scacco. Re in F1. Se si gioca. Donna in H1 con scacco. È lo stesso matto. Invece qui. Gli facciamo cambiare casa. Donna in G1 con scacco. Re in E2. Donna in E1. Re in D3. E di nuovo la torre. Gli dà scacco matto. Quindi. Ritorniamo. Alla posizione del quizzone. E quindi. Cosa bisogna fare? L'unico modo. È sacrificare la donna. Vojtacek. Gioca questa mossa al volo. Quindi. Donna per cavallo. La torre. Ricattura. Rimane. Con 13 minuti. Sull'orologio. Il polacco. Contro 5 di Karzen. Karzen gli gioca una trappola. Ah no. Scusate. Ora. Deve giocare. Vojtacek. Quindi Vojtacek. Ha perso la donna. Ma si ripiglia. Un po' di materiale. Alfiere cattura in C8. Karzen gli gioca una trappola. Torre in F8. Attenzione. A dove si mette l'alfiere. Perché alfiere in A6. Perde subito la partita. Perché arriva donna in F6. Che è una forchetta terribile. Quindi. Quasi mossa unica. Alfiere in B7. Ma. Prima di giocarla. Vojtacek. Ha speso 8 minuti. Perché ha già calcolato. Anche la mossa successiva. Perché quella è quella brutta davvero. Arriva la trappola di Karzen. Donna in F6. Attacca la torre. C'è soltanto una mossa. Che salva il bianco. Non è torre in B1. Come mai? Perché arriva scacco e forchetta. Ritorniamo a donna in F6. Non è il raddoppio delle torri. Sulla seconda. Perché arriva donna in E7. Attacca l'alfiere. E guardate un po' che succede. Quando l'alfiere si sposta. Arriva scacco e forchetta. Cade l'altro alfiere. E quindi. La mossa. Scusate. La mossa. Per salvare la partita. È la bruttissima. Ma utilissima. Seconda torre in A2. Quindi. Fermiamoci un attimo. Perché praticamente. Come materiale. Wojtacek è in vantaggio. Sicuramente. Ma purtroppo per lui. È rimasto passivo. Quindi che succede. Donna in F7. Attacca. L'alfiere. Ma qui. Fa cadere il pedone. Si crea il pedone passato. Quindi l'alfiere si porta di fronte al re. Donna cattura in B3. Wojtacek. Disparatamente cerca di mettere in gioco i suoi pezzi. Alfiere in E3. Dove questo alfiere è protetto. Mossa 35 anche per Karzen. Torre in D8. Fermiamoci un attimo. Mossa 35 abbiamo detto. Mancano ancora 5 mosse. Alla buono di. Anzi. Scusate. Sarebbe la trentasesima. La prossima. Mancano ancora 4 mosse. Alla buono di tempo della quarantesima. Karzen ha meno di 3 minuti sull'orologio. Wojtacek. Soltanto 6. Karzen propone patta. Cosa fareste voi? Accettereste questa patta? Pensiamoci un attimo. Come materiale. Come dicevamo. È messo meglio il bianco. Che però è rimasto incastrato. Se riuscisse ad attivare tutti i suoi pezzi. A coordinarli. Potrebbe anche vincere la partita. Ma per il computer. Il nero è messo benino. E c'è ancora totale equilibrio. Quindi se nelle prossime 4 mosse il bianco fa anche solo un mezzo passo falso. Addirittura il nero si può portare in vantaggio. Wojtacek accetterà la patta. Quindi si giocherà tutto oggi pomeriggio con Karzen con il bianco. Ma giochiamole però queste 4 mosse. Torre in E2. Attivare la torre. Quale delle due? Naturalmente quella che è sotto attacco. E che l'altra non si poteva spostare. È la mossa migliore. Il nero, cioè Karzen, deve stare attento. Perché c'è sempre il problema del matto del corridoio. Ancora è tranquillo. Può giocare torre in D1 con scacco. Ora attenzione. Torre per torre. La donna ricattura. Casca anche il pedone. Quindi il nero avrebbe due pedoni passati. Certo sotto il materiale. Ma due pedoni passati connessi. Di cui uno pur avanzato. Quindi torre in E1. Idea migliore. Ma c'è sempre il cambio torri. Torre per torre con scacco. La torre ricattura. E di nuovo il nero. Quindi il nero in qualsiasi caso gli vince il pedone. Donna cattura in A4. È giocabile. Perché non c'è nessuna scoperta che vince la partita. Ora torre in C1. Però ora qui bisogna fare qualcosa. Re in G8. Mossa 39 anche per il nero. Quindi il re si sposta. Non si fa dare il matto del corridoio. Perché tanto anche giocare G6, H6. È tutto buono. Ma con gli alfieri bisogna stare attenti. Quindi in questa posizione mosse da computer. C'è ancora totale parità. E c'è pure da giocare la 40esima mossa. Quindi ha fatto bene probabilmente Wojtacek. Perché questa partita. Ora poi qui c'è anche da difendersi. Quindi ha fatto bene Wojtacek. Probabilmente ad accettare la patta. Ha fatto bene Karsen a proporla. Perché oggi se la gioca di bianco. Secondo me è stata una partita spettacolare. Io spero proprio che vi sia piaciuta. Ci sono altri match. Tantissimi match veramente interessanti. Io spero di avere il tempo di mostrarvi anche altro. Oppure me le metterò da parte. Perché ho già analizzato altre partite. Altri spezzoni da proporvi. Me le metto da parte. E poi ce le guarderemo tra qualche giorno. Se la partita vi è piaciuta. Non scordate di like al video. Soprattutto non scordate di iscrivervi al canale. Perché noi ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti.